Ecco che cosa succede, forzate prendere, ce ne sono andati. Il partito è da l'aria, ma io non capisco che è stato fatto a poco. Ma che tu vuoi studiare la mia casa? Il partito è da l'aria, vero? Il partito è da l'aria, ma che tu vuoi studiare? Ah, la gente non si chiama, ma io non si chiama, ma io non si chiama. E' da l'aria, ma io non si chiama. Non mi interessa. Eh, qui ti chiama. Io non lo so, non mi faccia mai. Come lo sai? Dov'è, qui ti chiama. Eh, qui ti chiama? Danilo, la macchina? Dammi le case mie, non pare che le verdi. Eh, dammi me le case. Eh, qui ti chiama. Grazie Grazie